Ciao raga e bentornati in questo nuovo short Allora, oggi mamma mi ha comprato un pochettino di cose E ora le vedremo insieme Allora, come prima cosa Ci sono queste scarpe Che me le ha regalate mamma Queste sono pennate al capodanno E sono 37 E queste le abbiamo trovate al reparto bambini E meno male Anche se a me mi vanno anche i tacchi Da adulti Vabbè, poi sembro ridicola Se me li metto di me Poi queste invece sono adulta Sono da adulti Perché non c'era il mio numero ai bambini E ce l'hanno regalate Nonno e nonna Nonno e nonna Pina Per Natale Abbiamo anticipato Il regalo di Natale Assumere Non c'erano della mia taglia Se no me le compravo pure io 39 stava mi sembra Io c'ho 41 Poi Questo è buonissimo Vediamo Lo proviamo Ok raga È bianco È una bevanda cazzata Aromatizzata al gusto di lici Che è un frutto cinese Quello rosso Ma che buono Buono? Però non è questo invece No No Non è questo Questo come si chiama? Non mi ricordo Aiuto Non mi viene proprio a me Però tranquilli Ma come si chiama sto frutto? Io Ah il corbezzolo Però tranquilli Non fa male No È buonissimo vero? Non male Vai l'ultimo Il regalone Regalone Oh non ce l'ha mai avuto Nel primo anno Che glielo compro Dall'interno dell'affetto Ha deciso di prendere questo Di Galac Quindi il primo lo apri? Vai Allora Il primo lo aprirò con voi Il numero uno Eccolo Ah eccolo Vai Stiamo sicuri? Oddio non l'ho mai aperto Che bello Vabbè stanno tutti Il primo è Galac Vabbè Sono tutti quei cioccolatini di Galac A prezzo dai È bravo Ok Vediamo di che Oh che carino Non so come farvelo vedere Eccolo È l'albero di Natale con la stellina Che carino Facciamo a metà? No no Mangialo di Ok Vediamo Voi come l'avete comprato il calendario dell'avvento? Di che Protagonisti? Sono molto carini questi qui Sì carini Va bene ragazzi Noi abbiamo finito Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao